Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi c'è la terza puntata e l'avventura di Barbie Ken. Questa qui sarà una delle più belle, vi giuro perché non è proprio bacini baciotti, no sarà qualcosa di super avventuroso. Però se sentite delle voci o è fuori al parco che qui ci sono i ragazzi oppure sono qui vicino oppure sono di l'insalotto. Però adesso iniziamo. Ciak! Che bello! Ah, vi vorrei dire una cosa. Aspettate, Barbie Ken. E sono stati 24 ore sul letto, quindi la prova è superata. Ah, che bello! Sì, infatti, senza niente lettere di quella Rebecca che è la dono in bella che ho vero Rebecca S perché è una lettere del signore S ma forse è amica. Infatti è vero, è solo che si fa vedere. Anche se noi non l'abbiamo mai vista. Infatti. Scusa, non ho notato qualcosa di strano? Notate qualcosa di strano? No, io non so. Una lettera! Aiuto, 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 aiuto. Una lettera. Aspetta che ve la prendo io. Oh, oh, aiuto, aiuto, aiuto. C'è scritto, leggete qui. C'è scritto che dobbiamo andare nel mondo origamics che c'è anche la strega origamics, aiuto. Io intanto ve lo faccio stare qui. E adesso dobbiamo partire dopo. Ah, finalmente siamo arrivati. Che bello. infatti. E ci sono gli origami. Ciao. 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 Voi chi? Voi chi siete? Aspetta che mi siedo un attimo. Ah, non si è visto. Io sono Coconut. Sei tu la strega degli origamics? No, io non lo sono. Arriverò tra poco. Potete stare con me perché lei è molto cattiva anche con me. Ok. Siamo in macchina intanto. Scusa, ma da dove... da dove sei venuta qui? Dal... da qui proprio. Sono nata con... sono nata con gli altri. Però poi mi sono finita qui. Ok. Ma di che canale YouTube sei? Eh, sei gioco tutti. Anche voi siete dello stesso canale. Davvero? Sì, però non ve l'ha detto mai nessuno. Wow! Siamo dello stesso canale, però noi non ci incontriamo. è vero. È vero? Sì, è vero. Epic fail! Ciao! Ciao ragazzi! E voi ci siete? Noi siamo Ken. Io mi chiamo Ken. Io Barbie. Ah piccolina, perché sei proprio con loro? Non te lo dico. È solo che i miei genitori vogliono credito che erano nel loro mondo. È solo che... È solo che... non ho... non ho nessun amico. Ce n'è io tua amica. Ah 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 ah. No, non è vero. Ci ha raccontato tutto di lei. Veramente? Certo! Avete stati mandati da Rebecca? Sì. Allora oggi dovete fare qualcosa con gli origami X. Ok. Però dobbiamo spegnere Rebecca. Infatti è vero. Avete finito le vostre opere? Sì. E guarda... Io ho fatto un'anguria fucsia. Invece è uno scettolo. Che adesso... Guardate che ci faccio. Bidi bi bodi bi da... Ciu! Aaaaaaah! Sono scomparsa! Sì! Abbiamo finito! E se vi è piaciuto questo video mettete un like e iscrivetevi al canale. Ciao!